La Turchia studia la buona prassi dell'ITS Academy Sistema Meccanica di Lanciano con l'obiettivo di importare il modello italiano della formazione post diploma. Una delegazione composta da 16 rappresentanti tra il Ministero dell'Istruzione e il mondo imprenditoriale turco ha avuto un focus con organizzatori, docenti e aziende del territorio per toccare con mano il successo dell'Istituto Tecnico Superiore che da una decina d'anni forma tecnici su misura per il settore automotivo abruzzese. Il presidente della fondazione ITS Lanciano Paolo Raschiatore. Noi siamo stati individuati proprio dal Ministero Italiano dell'Istruzione che si occupa di ITS come un esempio positivo, una buona prassi da poter illustrare a questa delegazione di due Ministeri della Turchia, proprio perché è molto importante e molto interessante anche per loro introdurre questa formula che sta dando ottimi risultati in Italia degli ITS. Sicuramente uno dei più importanti punti di forza del successo degli ITS è proprio la collaborazione, la stretta collaborazione con le aziende, collaborazione che c'è a tutti i livelli dalla formazione dei corsi, alla docenza fino al placement dei ragazzi e quindi è stato molto importante trasmettere questa importanza e questo valore proprio a questa delegazione della Turchia. Tante le curiosità dei delegati espresse attraverso le domande per conoscere meglio la formula ITS da replicare in Turchia, le considerazioni degli ospiti. Noi come il Ministero per la pubblica istruzione in Turchia lavoriamo moltissimo sulla qualità, sulla formazione professionale, sulla garanzia, sull'incremento e lo sviluppo della qualità in generale per tutto ciò che riguarda la formazione professionale, per avvicinare anche il mondo dei giovani, il mondo della scuola al mondo del lavoro e per creare ulteriori sinergie tra questi due mondi. Quindi è stato veramente un incontro molto molto proficuo, abbiamo appreso tantissimo, le domande sono state tante e varie e crediamo che con questo entusiasmo che si è creato ci saranno ulteriori occasioni e opportunità per collaborare e vi ringraziamo anche per questa ospitalità mediterranea che ci avete riservato perché siamo stati accolti veramente come se fossimo a casa. Quindi crediamo anche in opportunità future, in uno scambio reciproco di informazioni e di esperienze. Questa buona pratica per noi sarà senz'altro molto preziosa. Qui abbiamo trovato veramente un progetto interessantissimo, una realtà molto interessante, molto stimolante per noi. Abbiamo potuto apprendere come il mondo della scuola e il mondo professionale si possono avvicinare e possono farlo anche con la massima efficacia in modo tale da formare fin dall'inizio dei tecnici che richiedono poi i vari settori della produzione che appunto costituiscono il cuore di una regione che è quella della regione Abruzzo. Vediamo anche moltissime similitudini tra l'Italia e la Turchia. I nostri sistemi di pubblica istruzione sono molto simili, sono simili anche a alcune dinamiche del mondo del lavoro, la struttura anche e tutte le questioni di domanda, anche di richiesta per diversi profili professionali, anche l'interesse dei nostri giovani verso questi profili e anche le criticità tra i nostri due mondi si assomigliano. Quindi io credo che questo incontro sarà molto prolifico anche tramite i scambi di buone pratiche e di esperienze in futuro perché credo che i nostri due paesi abbiano moltissimo da insegnare e da imparare l'uno dall'altro e grazie mille. Il grande interesse manifestato dalla delegazione turca è sottolineato anche dalla regione Abruzzo, presente con la dirigente Nicoletta Bucco del Dipartimento Formazione. E lo stiamo vedendo nel corso di questo momento di confronto ma soprattutto di esplicitazione di quella che è la nostra modalità, quindi dell'ITS Abruzzo e nel caso particolare dell'ITS meccanica. Quindi è una formazione che ha un successo straordinario considerando che i progetti formativi vengono costruiti proprio sull'esigenza dell'azienda e insieme all'azienda che partecipa alla selezione dei ragazzi e partecipa alla definizione di ogni modulo formativo, addirittura fornendo anche le professionalità esistenti al loro interno per gli insegnamenti. Quindi è chiaro che c'è un processo di allineamento delle competenze al fabbisogno aziendale che viene costruito passo dopo passo per cui ha successo. Quindi è una formazione costruita sull'esigenza che viene predefinita, preidentificata. Tant'è che i modelli, i moduli formativi vengono pressoché annualmente da parte degli ITS riproposti perché vengono innovati sulla base delle esigenze che si modificano e noi in regione li sosteniamo con il Fondo Sociale Europeo che si unisce e si aggiunge al Fondo Ministeriale con il quale gli ITS vengono sostenuti. Quindi è una prassi d'eccellenza la nostra che adesso stiamo illustrando alla delegazione turca e che mostra proprio grande interesse e lo vediamo proprio dal livello di dettaglio delle domande che ci stanno ponendo. e questo ci vede molto orgogliosi ma soprattutto proiettati nell'incentivare ancora di più questa formazione che appunto è post scuola secondaria di secondo grado e si pone tra la scuola e la formazione universitaria rispetto alla quale noi conosciamo i cosiddetti crediti formativi in accordo con le università perché tanti insegnamenti sono proprio a cavallo quindi il riconoscimento dei crediti formativi è fondamentale anche per consentire ai ragazzi di accedere al percorso universitario. L'importanza strategica del settore automotive in Abruzzo è stata evidenziata dal direttore del Polo Innovazione Automotive Raffaele Trevilino il quale non nasconde la preoccupazione del territorio per la crisi in atto. L'unica via d'uscita dice è diventare protagonisti della transizione ecologica con l'accrescimento delle competenze. Diciamo che è un momento in cui siamo molto preoccupati ma diciamo il territorio è molto preoccupato. Io farei una riflessione nel senso che tutto il mondo, il mondo è cambiato e quindi non è più niente stabile e fisso come era 50 anni fa o 30 anni fa o 100 anni fa. Tutto in evoluzione, tutti noi siamo convinti che il mondo deve correre perché tutti quanti ci aspettiamo questo e quindi anche il settore automotico corre. Corre significa che va molto veloce, c'è tutto il tema della transizione ecologica e quindi la cosiddetta transizione elettrica che determinerà una rivoluzione in questo settore. È chiaro che in questa rivoluzione noi non dobbiamo subirla ma dobbiamo lavorare affinché noi siamo protagonisti anche in questo momento di rivoluzione. Per essere protagonisti bisogna essere coinvolti, quindi bisogna pensare tutti insieme di aumentare le competenze, quindi le aziende per quanto riguarda la ricerca e l'innovazione, i lavoratori per quanto riguarda le proprie competenze sia digitali ma anche le competenze tecniche. L'ITS è una delle parti di questo programma, io ho ricordato a loro perché è nato il Polo Automotive che è nato 12 anni fa su questi temi, oggi è sempre più attuale perché è il mondo che va di corsa come ho detto prima e quindi abbiamo bisogno urgentemente di adeguare. Quindi certo dobbiamo preoccuparci, ci deve preoccupare tutto quello che, ma se noi siamo fermi non possiamo pensare che tutto ci venga regalato, noi dobbiamo essere attori di questo cambiamento e se siamo attori noi vivremo in positivo. Anche l'ultimo piano strategico di Stellantis dice che vuole essere il leader mondiale nel settore del veicolo leggero, aiutiamo queste imprese a diventare questo leader mondiale e quindi lavoriamo tutti insieme in positivo. Poi chi piange o li pianti i problemi, i drammi che sento ultimamente, io non penso che siamo in queste condizioni perché se no altre aree d'Italia o del mondo dovrebbero stare ancora peggio di noi, forse dovrebbero rasentare il suicidio.